Eeeeee, ciao cari sono Atrix, signori! Bentornati cari nel canale, regà, torniamo su Arston, torniamo con altro deck che oggi vi vado a proporre Mi son da poco svegliato, il che è evidente dal letto si è disfatto alle mie spalle, il che è evidente dal mio occhio diciamo abbastanza ambiguo e... Vabbè insomma, oggi cari vi voglio proporre l'Ali Zagor Atronax, ieri live l'abbiamo provato Ci ho fatto una partita, avevo preso la prima lista che ci avevo su Tokyo che era quella di Tides of Time Oggi invece cari vado con la lista del maestro, oggi cari proviamo la lista di Asmodai, peraltro ho già giocato ieri live, manca a farla apposta Ed è un deck che secondo me è divertentissimo, per chi non lo sapesse Atronax era leggendaria 3-7 del druido Che come rantolo di morte ha, evoca tutti i minion con provocazione, quindi fondamentalmente cari la sinergia simpatica è quella Usiamo la spella tremana che ci fa evocare una bestia e vedi un po' nel deck l'unica bestia è proprio Atronax Signori, vediamo un attimo come è il matchup contro i deck top tier del meta che si sta così creando come pala, come lock soprattutto Io cari, come sempre vi invito a lasciare un like, a fare un commento e giusto appunto a una condivisione se volete supportare il video Buona visione Avanti il primo, allora perfetto uno stregone, allora cari come potete notare, diciamo, lo notate Come adesso notate sulla destra Il deck è modificato rispetto alla volta scorsa, come vedete non c'è lo spreading plug, come vedete non c'è il secondo primordial drake Come vedete c'è il master o hakeart Non lo so in realtà, le vanno spreading plug in un meta in cui sembrerebbe quasi che deck agro come od pala o face hunter Dio face hunter in realtà non me... spreading plug è buono cari solo contro od pala, questo è abbastanza chiaro Però non è che è solo buono con, è veramente tanto buono contro od pala, talvolta anche win condition Però vabbè, giochiamo contro l'hawk, ora gari Contro l'hawk, come cap, questo deck qui è un deck che fa value È un deck che fa value perché una volta che voi giocate tanti taunt, giocate adronox e poi lo resummonate altre due volte Quindi, essendo un deck che fa value, il problema grave, grosso, potrebbe essere, bello nel frattempo lo hager Speck lo hager, fare il biscottole Però è peccato non avere una provocazione Scusatemi, peccato non avere nourish Comunque, stavo dicendo, il problema potrebbe essere la ring Perché essendo questo un deck che fa molta value Se lui gioca la ring, ed è un deck molto lento Se lui mi gioca la ring al turno 6 Peggio ancora, sarà presa dal defender Visto che noi non riusciremo mai a mettere tanta pressione Perché ripeto, cari, il deck nostro è molto lento Anche se altrimenti infestation è sicuramente un buon draw per andare a levare un po' di carte dal deck La vedo molto difficile, molto difficile Comunque, non abbiamo gari purtroppo rampo Se lui gioca la key, io non ho, signori, non ho silence Eridon Jones non è, dici proprio quello che tu volevi vedere Potrei giocarlo, potrei non giocarlo E' un control questo qui, o è un cubo E vallo a capire, ci sono cubi attualmente cari che giocano i defender Non posso rischiare mai nella vita di fare una cosa di questo tipo Mi piacerebbe tanto mettere il cubo Alla faccia del cazzo caro Sei là, al capo Alla faccia di quest'ultimo Chiaramente un control E... Parte da dio 2, 4, 6, o Parte veramente tanto bene Ehm... Chiaramente qua rampo Molto probabilmente Potrei già... Potrei già mandarli un overdraw cari Lo devo fare Perché devo in qualche modo levarmi un po' di cose dalla mano La giocata nostra sarà il maestro Cuor di Quercia il turno dopo Sperando che scarti cooldown e vinciamo la partita Non ho fatto i ro-power Non ho fatto i ro-power, vabbè, fa niente Non è un grosso problema Anche la Rinna Anche la Rinna Anche la Rinna, seriamente Anche la Rinna Quanto mi vuoi male sta partita Quanto mi vuoi male Signor Santissimo Ma proprio tanto male Cuor di Quercia tutta la vita Perlomeno prendo Aronox Questa è la buona notizia Ehm... Vorrei tanto svoltermi la mano Ma non posso farlo Non posso farlo Ora Non penso di riuscire mai a vincere Questo è abbastanza evidente Ehm... Leech King Lo dobbiamo assolutamente Traddare Ma tutta la vita proprio Ehm... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La vedo particolarmente dura 4, 5, si è l'unica Lo so Gli lascio Leech King È l'unica Non ci sono altre soluzioni Veramente Non c'ho altre soluzioni Io devo assolutamente qua Andare di cubo Per poter pensare Di mettergli pressione un po' Ehm... Nemmeno swipe mi piace tantissimo Swipe a cosa? No Va bene Sì lo so È vero Gli tolgo solamente un... Oddio in realtà cari Io coin gioco lui Voglio levarmi il toso dalla mano È vero Certo caro Se gli scarti cooldown Sarebbe stato Molto simpatico E divertente Niente mai di questo tipo Allora Il discorso è questo qua Che Il cubo Non verrà silenziato Questa è una cosa che io Me autoconvinco Me voglio autoconvincere Sto fatto Spero non abbia silence Penso Lo possa avere Questo va bene Ok Io c'ho un altro cubo Attenzione Ok ecco Inizia subito a rompere i coglioni Adesso che si gilli Ma era chiaro Ma era evidente e matematico Il problema è che io adesso Pesco come un assassino Io pesco bene Non penso che riuscirà mai A mandarmi in Overdru Il problema è che Andrò in Overdru da solo Se questo è il discorso Allora Due, quattro, sei, otto, dieci Caro c'hai dieci carte Ti bruci la carta del Leech King Sei stronzo Te la brucio lo stesso A meno che non prendi la spira Spira Darpat Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Cioè va bene Potrebbe andare meglio Abbiate i veni Potrebbe andare meglio Però potrebbe andare pure peggio Allora sicuramente trade Sicuramente trade Basta le cinghie C'è rotto i coglioni E sicuramente cubo E sicuramente Boomalo Cioè Però Cioè insomma Sannaia la putta Sì Silence Mi silenzi Sto grubbo De culo Carissimo Me lo silenzi Sto grubbo De culo Mi silenzi Benissimo Oh Ste cazzo De cuffie Però Qua Sta di buona Dai Si è rotto tutto Ma che cazzo fai Quattro Otto Dodici Che cazzo Questa Questa partita Questa partita che avete visto Una partita in cui è partito Di lakai lakai Turno 5 Voilord Voilord Rinde turno 6 Cioè Non è proprio uno che ce l'ha mandato a raccontare Ci ha detto Buongiorno caro Come stiamo Ma l'ha faminato caffè nel frattempo È Proprio La definizione Di value Avevamo ancora due Adronox in campo Vi faccio notare E Cari Adronox È l'onzotto 2.0 Cioè Questo deck Ha una value imbarazzante Sembrava un meme deck Ma vi assicuro Che ieri me lo sono studiato tantissimo È un deck divertentissimo E soprattutto Forte È molto forte Craftatevi Adronox Vado a farmi un altro caffietto Subitissimo Bene carissimi Adri dai Ancora E basta Non è lo stesso di prima Ma è un'altra persona Che vuole giocare l'occa Va bene Comunque Se abbiamo battuto l'occa di prima Che è partito da Dio Molto probabilmente Non avremo terroppo problemi con lui Allora cari Lasciamo evocazione della quercia Ora delle streghe Non ci servirà adesso Signori Molti Mi chiederanno Molti Lo so già Che me l'hai già scritto Mi chiederanno Perché non c'è in DK Il problema del DK Che il DK Evocando conseguentemente Le bestie con l'hero power Va tradibilmente In disaccordo Con l'ora delle streghe Quindi cari Abbiate pazienza O giocate il DK Ma lo dovete giocare Dopo la doppia ora Cioè Dovete giocarlo dopo Adronox E doppia ora delle streghe Quindi Capite bene Che è inutile mettere il DK Perché già è una giocata Molto lenta Adronox Pensate La doppia ora della strega È lentissima Quindi Non vi consiglio mai Nella vita il DK Non ce l'ho giocata Per il resto Così Insomma Harrison Jones Ve lo consiglio Se non ce l'avete Mettete una melma Ci sono tanti cubi È importante cari E avere una weapon removal Che poi Ah carissimo Salve Lei potrebbe capitare A facciolo Lo sai? Lo sai Ora è vero Il problema è che mi serve La nourish Perché ho una bella mano Ho una buona mano Però mi serve qualcosa Per rampare Questo non è assolutamente Un problema Questo è una buona Una buona pescata in curva Questa è Questa è veramente Una bella pescata in curva Allora abbiamo Un turno 6 Un turno 7 Cari che attualmente Non sono presenti Coin in tua arma Dammi sta soddisfazione Giocherino Dammi sta soddisfazione Caro Ok credo sia un control Detto questo Detto questo Non me la sento Dei giocare son johns Io Non me la sento proprio Chiaramente cari Non faccio nulla Non voglio regalarli Non voglio farmi danno Senza alcun tipo di motivo Questa sarà Molto probabilmente La giocata della key Ci sta eh Coin darpact Non so qua Cioè si ci sta Per carità di dio Coin darpact Va bene Però Molti sono Proprio Inferociti Nel fasto coin darpact Subito Secondo me Non è del tutto giusto Poi ho Punti di vista Sicuramente cari Andiamo a pescare Non posso giocare Naturalizzazione Purtroppo Perché non mi piace Dopo lo spot Continuo a pescare Ok Masterwagon È buono Abbiamo Signori Redelicin to Masterwagon Se abbiamo la fortuna Di prendere Il coso Lì come si chiama La Oh Matti Adronox Adronox Sarebbe molto interessante Molto interessante Perché poi cari La value È dei casa Ricordiamo che lui Comunque si Ha le varie twist In nether Ma ripeto Non bastano Non bastano Perché noi abbiamo Perché non è solamente Il fatto di Witch in the E beh però Che palle Cristo santo Va la testina Che palle però Devo trattargli La rin Vaffanculo 3-6 Devo trattargli La cazzo La rin Vaffanculo A te Ha la mamma E da la rin Che palle Starino Ma c'è sempre Il turno 6 Vabbè Mi frega un cazzo Di quello che mi dai Allora Mastro Cor di Quercia Se mi dai Se mi dai Se mi dai Adronox Noi vinciamo pure Sta partita Se non mi dai Adronox No Difficile Non mi contesta Lich King Dai che non ce l'hai Se hai Fonsul Fa la ragazzina Non ce l'hai Se hai Fonsul Al massimo C'è un faceless O un Silence Che andrebbe benissimo Il Silence Sul Lich King Andrebbe da Dio Mi rimande l'8-8 Non mi puoi silenziare Il Cubo Ah regà A proposito Non ti ho detto Naturalizzazione In questo deck Funge da Dark Pact Del Locke Perché è la stessa cosa Voi giocate Adronox Oppure Cubo Adronox Boom Capito? Lui pesca Si milla Capito? Sacco di cose caillarde Quindi Questo è il Dark Pact Del Locke Mamma che bello Top Deck Anche Adronox Va bene Certo La tua magia Non ti salverà Capito? Va benissimo Il Silence Va da Dio Il Silence Mastro Cor di Quercia Lo vaffanculo A te a mamme Dalla troia La burina Maledetta Bastarda La bieca Cazzo Dai No No Ho preso 50-50 Come cazzo Pescomo Ok Non deve giocare Le Amethyst Le Amethyst Non deve giocare Sigilli Buondio Mamma che brutta Giocata questa 9-50 E 3-6 Con Taunt Che carità Il Taunt C'è pure Raga Mi serve Adronox Prima di subito Ho una grandissima Mano per Adronox Visto che è la doppia Era della strega Però Allora Il segreto Il punto è questo Prossimo turno In qualche modo lo devo millare Cioè Devo sfoltirmi la mano Per giocare poi L'infestazione E trovare Adronox Questo è poco ma sicuro E Non solo Adronox Anche i cubi che mi servono tantissimo Il problema è che Devo capire un attimo Come sfoltirmi la mano Lui potrebbe giocare Amethyst E Amethyst Ancora Mattia che chiama Amethyst Il sigillo da Arin E va bene Perché è molto lenta come giocata Va molto bene Io potrei andare di naturalizzazione Sul 3-9 Lui giocando Il sigillo Rimano a 9 carte E noi siamo tutti contenti Perché lo milliamo Ok Benissimo Fai 3-3 dal posto mio Ok Bate Va bene La Wombo Combo è fatto Carissimo Nourish Ok Ok 1,2,3,4,5,6,7,8 Devo pescare Assolutamente Niente cosa ancora Niente Oh signor che palle Eh capito Eh capito Quando non trovi Atronox Caria Nella lottura De coglioni Questo è il problema Grosso Nella lottura Veramente Tanto di palle Ora mi andrà Di sigilli Nella lottura De palle Porca ragazzi Mi è bastato Atronox Mi è bastato Atronox Cristo santissimo Però finché non gioca I sigilli Non sto contento Ma lo giocherà Sicuramente Io chiaramente Caria andrò Con la morte e distruzione Che è molto forte In questo spot 2,4,6,7,8 Tappa Tappa Morte e distruzione OP eh Walk and summons Non serve a niente Zero Niente Quindi Sicuramente Morte e distruzione È matematico Come faccio Cioè Ho nuove carte Come faccio A giocare All'ultimente Infestation È impossibile Capisci Come faccio A giocare All'ultimente Infestation Cubo Edison Jones Sicuro E basta Carissimi Che vi devo dire Mi serve Mi serve Onurish O Questo potrebbe Essere un problema Lui non può Far doppia Metista Lui non può Far doppia Doppio sigillo Questo è buono Perché non può Far doppio sigillo In questo spot C'avemo 9 danni in board 13 14 Troppo rischio L'Ital Non può Non può Se far doppio sigillo È un pazzo Anche perché Se troviamo la seconda Swipe è L'Ital Quindi Ne giocherà Molto probabilmente Forse giocherà Un boiler E siamo contenti Di questo Ok Golden Decay Satrox Non mi fa Fallocchio Da matto Adronox Abbiamo vinto Adronox Cazzo Boom 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 Lo distruggo Lo distruggo No C'è tempo Regà C'è ancora Cubo Due naturalizzazioni Che voglio distrugge E attenzione Perché le naturalizzazioni Gli daranno Tanto fastidio A lui Perché Fondamentalmente È vero Che lui con La Rin Che ancora Deve comunque Svilupparla Mi toglie board Cioè mi toglie board Che sto dicendo Mi toglie carte Ma con naturalizzazione Io una volta che metto Un muro di taunt Lui non può far nulla Sì ok Ha twisty nether Ma io c'ho ancora Due ore delle streghe E un cubo Di che cazzo parliamo Lui ha già giocato Uno spellbreaker Sul lich king Ve l'ho detto infatti Spero che giochi Sul lich king In modo che poi Non lo fa sul cubo Abbiamo vinto la partita È vinta Stata partita Sto deck è bellissimo È una figata C'è poco da fare Sono galvanizzatissimo Mamma mia Quanta mano sto robo Comunque Ragioniamo Rimaniamo concentrati Rimaniamo Perfettamente concentrati Inoltre La forza anche di questo deck È il fatto di poterci Di potersi fare Tanta armor Tra Le evocazioni della quercia E comunque il branding path Nine 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 Carissimo Nine Nine No 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 Oh no 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 Fosto Fosto Do il cubo Ok Ok Wait Va bene no? Insomma Va ben parolone Figliaccio di puttana bastarda Rotta in culo da una sporca Rotta in culo da una situazione E se me lo silenzia? Allora Ragioniamo un secondo Non c'ho più l'ora delle streghe Non c'ho più un cazzo Non c'ho più niente Zero Lui ha già giocato Uno spellbreaker Io potrei Andare di cubo Sul cubo E evocare due Adonox Vero Però cari Il problema Che facendo questa giocata Io soffro troppo Il twist in nether Io non credo Mai nella vita Ma mai Mai Ma mano sulla coscienza Che non è coscienza Questa Sterno Non lo so Io non credo Che lui possa mai giocare Dopo spellbreaker Questa è la nostra Winniplay Se c'è lo spellbreaker Va bene Ci sta Perdo la partita Dopo questa giocata Che ha fatto Va bene Cioè ancora Che mi gioca Che poi peraltro Può avere un'altra combo Penso che ha doppio Stregone Cos'è l'altà Dai Anche perché ho già giocato Due se l'altà Vi ricordo Ho già giocato la combo Doomseyer in due se l'altà Ok Ok Non è spellbreaker Qualsiasi cosa Non sia spellbreaker Adesso va bene Buon dio Va bene Bella partita Comunque Bel deck il suo Bel deck il suo Molto tecnico Mi piace Mi piace Questo non fa niente Come c'è Perché Ah giustamente Il secondo voilor Ci sta Ci sta Benissimo 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 Catarrino Allora 4 8 Rubo un servitore Partirei con questa Assolutamente sì Defender Bello 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 Defender Mi piace parecchio Lui non può mai morire Vero Swipe Così settiamo comunque Il drake al turno dopo Sicuramente Tardiamo lui Basta Danneggiamo lui E Trado chiaramente Cari pezzi con 3 Tanto voglio dire Gli altri vengono Proccati dal Dal primordial In modo che Boom Sbatto con il cubo Primordial Due atronox Il problema Sapete qual è Di sta giocata qua Che io devo Assolutamente Appena vedo atronox Appena vedo atronox Mangiamolo col cubo Perché lui potrebbe fare Qui una giocata Molto forte Che potrebbe essere 4-3 Into Twisting Nether Che non è così forte Regà Perché lui perde il turno Io ho tutti i taunt E gli faccio una valanga Di danni E infatti Que fa così Forse ho sbagliato Attaccare Forse ho sbagliato Attaccare con lui Sapete Non dovevo portarlo Sotto il range Di low power Twisting Nether Cazzo Forse ho sbagliato Ok Non c'è Twisting Nether Capito quello che ho detto io Ho giocato troppo velocemente Io ho detto Ok Diminuisco la vita Del cubo In modo che muore Ma così facendo Sono andato troppo sotto A Hero power Twisting Nether E se perdevo i miei due atronox Non potevo fare questa giocata L'ho un pochino rischiata Allora A me non me ne fotte niente Qui Del Di pe Io qui devo mangiarmi Sicuramente un atronox Non mi interessa per niente Di non prendere valido Quell'atronox Ho bisogno di averlo Ho bisogno assolutamente Di averlo Con Col mio cubo Quindi trade Ah che ho tradato tutto Guardi Trade Devo tradare tutto Poco da fa E Me lo mangio col cubo Ok si Prenderò probabilmente Un 3-6 Ma questo non è un problema Lui va tradato Ok Va bene Va bene Va benissimo Va benissimo Ok Chiaramente Questa giocata Sempre per giocare Intorno a Twisting Nether Che non ce l'ha ma poto beccarlo Sono sicuro Che un deck control Di questo tipo Ha Twisting Nether Questo è poco ma sicuro Non può giocare i sigilli caro Cioè L'abbiamo chiuso L'abbiamo messa a giro L'abbiamo messo Twisting Nether Ora che succede Boom si frocca atronox Tutti taunt Boom altri due atronox Fa niente Non fa zero Ovviamente poca poca roba Bella partita comunque Veramente interessante Interessantissima I sigilli Quanto sta 3-3 Quindi manca 4-4 5-5 6-6 5-10 15 mana Tantissimo Tantissimo caro Bocca al lupo Caro sei messo a giro Ah che poi peraltro Veramente Seriamente Vedi i gilli Sei un eroe Caro sei un eroe Tutto faccio ti vado Sei veramente un eroe Vranji Impatta A me cari Non mi serve niente In realtà No Fermati Che sto facendo Mattia però cazzo Gioca serio Porco Malfurion Eh scusate Scusate Bene frega Ho misato due danni Forse ho misato lì All'addirittura Però No Perché questi non possono attaccare Probabilmente Ho giocato di merda Ho giocato veloce Avrei dovuto fare Più un attacco Più 6 di armor Ci sa perché Non l'ho fatto Ma fa niente Questa partita è vinta Cari comunque Ok quello che stavo Comunque dicendo La cosa che vorrei Vedere tanto Di questo deck qua È come se la gava Contro angolo Perché ok Contro control Essendo gli altri deck Molto lenti Voi avete tutto il tempo Del mondo Per attuar bene Le vostre combo Quindi giocare i cubi Giocarlo la delle streghe Che attualmente Non l'avete visto Ma perché chiaramente C'è la counterata Con una slealtà Vorrei vedere Come gioca contro aggro Perché come a voi Abbiamo gari In realtà primordial drake Non abbiamo Avevo detto no Twisting No sì Quello non ce l'avevo Perché non siamo Stai Non abbiamo La La spell a 6 L'unico modo Per counterare aggro Fondamentalmente È iniziare a rampare Giocare subito Gli ironwood golem Dalle Dalle walk and summons Swipe è fortissima Swipe è fortissima Contro pala Dovete avere swipe Assolutamente Sì è vero Una volta che poi fate Taunt Avete vinto Grazie al cazzo Avete vinto Vincete anche contro contro Il problema è che potrebbe Essere troppo lento Il deck Anche se ieri Asmo Comunque contro pala Aveva un 50 e 50 De qui in rete Dipende un po' Da come partiva Senti caro Che stai facendo Per l'amor di dio Che stai facendo carissimo Che cazzo stai facendo È perso Giocherino Amore mio Dai Ma non è che devi aspettare Tutto il turno Che concede caro Perdi anche parte Dalla giornata Comunque cari Questo è il deck Di Aronox L'avete visto Proprio al massimo Della sua forza E della sua bellezza Un deck Super consigliato In questo meta In cui I lock Dominano Perché sto incontrando Solo lock Sì è vero Ci sono anche i paladini Aggressivi Pala Paripala Eccetera eccetera Anche se col paripala Questo deck È fortissimo Contro il paripala Però cari Io vedo solamente lock E quindi Vengo a consigliarvi Questo deck In cui vi ricordo Siamo partiti due volte Collarini dal turno 6 E Voilor dal turno 6 Mi pare al turno 5 Prima due Voilor Gli altri Gli altri hanno avuto Una grossa mano E noi comunque L'abbiamo canterata Perfezione Signori Spero realmente Che il video vi sia raggiunto Se si fosse lasciato un like Un commento Una condivisione Noi cari ci vediamo Chiaramente in live Domani Domani che è martedì Solita ora Ore 21 Nel mentre Fate un buon proseguimento Di giornata Un grosso abbraccio Che bella